Quello che ci occorre per realizzare questo copripuffo è del cotone, io utilizzo questo dell'Anchor Style e un uncinetto, vado ad operare un numero 4,5, per questo cotone forse è addirittura un pelino grosso, però voglio che la lavorazione rimanga molto morbida e quindi utilizzo un uncinetto così grosso, vi consiglio qualunque cotone voi utilizziate di usare un colore piuttosto chiaro e neutro, poiché il ricamo che andiamo a realizzarci dopo sopra se utilizzate una base scura si sminuisce, a meno che non lo facciate poi in contrasto magari tutto sul bianco o cose del genere, io comunque vi consiglio per questa cosa che andiamo a realizzare assieme di usare un cotone possibilmente chiaro e assolutamente non sfumato iniziamo subito la nostra lavorazione avviando 63 catenelle, questo vi dico 63 catenelle perché il mio puffo è quadrato e ho contato che misura esattamente 63 catenelle, voi mentre le fate provate ad appoggiarle sul vostro e deve ricoprire tutto un lato, quindi se è più piccolo ne fate meno, se è più grande ne fate di più, solitamente il mio è già una delle prime misure ed è abbastanza piccolo quindi penso che a meno che non ce l'abbiate come il mio ve ne serviranno di più, comunque iniziamo avviando le catenelle due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci io vado avanti così fino a 63, voi vedete qual è la misura che vi occorre terminate le catenelle, proseguiamo col primo giro, quindi ne facciamo ancora una, una catenella per girare, puntiamo nella prima maglia, nella prima catenella e andiamo a fare tutte maglie basse, una per ogni catenella, quindi nel mio caso saranno 63 maglie basse e poi saranno il numero delle catenelle appunto che avete fatto, ok? Andiamo a lavorare semplicemente una maglia bassa per maglia, così. terminato il primo giro di maglie basse, giriamo il lavoro, facciamo una catenella per girare appunto, e poi ricominciamo la nostra lavorazione sempre così, procediamo sempre nello stesso modo realizzando tante maglie basse, una per ogni catenella appunto iniziale, quindi io ne avrò sempre 63 e continuo così a realizzare le mie maglie basse per questo secondo giro e per altri giri a venire. Quindi procediamo sempre così, lavorando le maglie basse. Eccoci qua, ho realizzato 92 giri di maglie basse e questa è la lunghezza che mi serve per ricoprire interamente la parte superiore del mio puffo. Vedete voi in base a quello che avete quanti giri vi occorrono, questa potrebbe non essere la misura che vi serve. Comunque terminato diciamo il rettangolo o il quadrato che ricopre interamente il nostro puffo, iniziamo la parte più interessante di questo lavoro, ovvero il ricamo appunto croce che andiamo appunto a realizzare sopra questa base fatta all'uncinetto. Come scegliamo il disegno? Io adesso ne ho scelto uno che è una specie di cuore e che vado a realizzare con questa matassina di cotonella nato di MC con questo numero perché mi piaceva questo colore, il numero è il 2434. Io faccio questo ricamo monocolore perché questo puffo lo voglio rendere un po' stile shabby, quindi con la base molto chiara e il ricamo appunto così, però voi potete realizzare, potete scegliere innanzitutto lo schema che più vi piace e anche farlo di più colori. Comunque io adesso vi faccio vedere a fare questo, poi voi potete anche modificarlo o fare lo stesso. Cosa importantissima? Come partire per centrare il lavoro, perché ovviamente il soggetto che vado a fare io andrà qui posizionato bene al centro. Allora pieghiamo il nostro lavoro in due, così, e gli facciamo fare una bella riga in centro, ok? Pieghiamo bene affinché si forni una riga. Apriamo, vedete che c'è la riga, pieghiamo dall'altra parte e di nuovo pieghiamo bene, apriamo e abbiamo le nostre belle due righe, adesso questo qua si vede più poco, andiamo a ricalcarla, comunque il nostro centro è qua. Abbiamo individuato il nostro centro e da qui inizieremo a contare i quadretti per andare a realizzare il ricamo. Per chi fosse già pratico di punto croce sa benissimo che il punto croce si svolge su una tela ida a quadretti. Con questa lavorazione a maglia bassa abbiamo riprodotto in modo molto simile quei quadretti, poiché ogni, diciamo, due righe noi abbiamo dei puntini in cui andremo a infilarci con il nostro ago per fare la nostra croce. Però adesso, appunto, individuato il centro, iniziamo a contare per spostarci e sapere dove iniziare il ricamo. Infiliamo poi il nostro filo in un ago e dal punto, diciamo, del centro, che io ho individuato essere questo qua, conto 16 quadretti verso il basso. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici e sedici. Sono finita qui, ho contato 16, diciamo, quadretti, poiché non so, appunto, se vedete bene, adesso faccio lo zoom, vedete che con questa lavorazione maglia bassa si sono formati questi quadretti. Quindi questo è uno, poi ce n'è uno sotto e così via. Dal centro voi dovete contarne 16. Io l'ho individuato essere questo qua, dove adesso ho puntato l'ago, quindi qua farò il mio primo punto. Vado da sotto, infilo l'ago e tiro. Mi sposto in qua, punto l'ago, dobbiamo fare una x, no? Quindi sono nell'angolo in basso a sinistra del mio quadratino, mi sposto nell'angolo in alto a destra del mio quadratino. Così. Adesso vengo qui, nell'angolo in basso a destra, punto di nuovo l'ago e vado sopra nell'angolo in alto a sinistra e formo una x, una croce, il mio primo punto. Adesso mi sposto in diagonale, ovvero vado a fare una x qua, ok? Qua così. quindi mi punto sempre nell'angolo di qua e vado dall'altra parte. Faccio la mia prima parte di x. Vedete? Così. Poi punto qui, dove già ho fatto l'altra precedentemente e vado con il mio ago, puntare qui e formo un'altra x, il mio secondo punto. Andiamo a realizzare due punti consecutivi, ovvero uno sopra questo qua che abbiamo appena fatto e uno di fianco. Allora, adesso, per chi lavora a punto croce sicuramente già lo sta, puntiamo qui, così, un quadretto spostato e andiamo a puntare in alto a fare la prima diagonale. Lavoriamo sempre in diagonale, appunto, così. Però, invece di completare la x, andiamo a fare l'altra diagonale uguale, quindi puntiamo di nuovo in basso e andiamo in alto. In modo da aver fatto tutte e due le diagonali nello stesso senso della nostra x. Adesso torniamo indietro, ovvero andiamo a completare la parte mancante. Puntiamo qua in basso e di nuovo in basso e di nuovo in alto. E abbiamo completato la prima x. Adesso puntiamo di nuovo in basso e andiamo dall'altra parte in alto. E abbiamo completato tutte e due le nostre x. Stessa cosa facciamo per il giro successivo, però le x aumentano e diventano 3. Infatti, come vi ho già detto prima, io sto andando a realizzare un cuore, quindi questo è l'appunto del mio cuore e adesso stiamo salendo e poco per volta andiamo a realizzare di più. Quindi, puntiamo un quadretto spostato in qua, così, e andiamo a puntare di nuovo in là, sopra, facendo la prima diagonale e andiamo a fare le altre due diagonali nello stesso senso. Due, la seconda, e adesso facciamo la terza. Così. Adesso torniamo indietro e realizziamo le tre dall'altra parte in modo da chiudere le nostre crocette. Puntiamo qua, qua sopra, e di nuovo qui sopra. Seguiamo sempre il quadretto e nel nostro quadretto dobbiamo disegnare appunto una croce, una x. Una x, non una croce, scusatemi. Adesso continuiamo sempre a fare 3x, però ci spostiamo più in là, ovvero partiamo sempre un punto prima. Vedete che qui sto andando a scalare, parto sempre un punto prima, vado sopra e faccio sempre 3 punti, quindi noterete che finiamo una crocetta prima rispetto al giro precedente. Voilà! Adesso torniamo indietro e completiamo le nostre x. Vedete? abbiamo realizzato i nostri primi giri. Adesso i prossimi due giri saranno formati tutti e due da quattro crocette e partiamo sempre, sempre, sempre un punto prima. Quindi qui e andiamo a fare quattro mezze crocette. Quindi due, tre e quattro. e torniamo indietro. la stessa cosa per il giro precedente. la stessa cosa per il giro precedente. per il prossimo giro, partendo però sempre una crocetta prima, ne facciamo altre quattro. Arrivati a questo punto dove abbiamo fatto due giri appunto di quattro crocette, però sempre partendo un punto prima, proprio per dare l'effetto del cuore che sale. Adesso partiamo sempre una crocetta prima e ne facciamo due, quindi due mezze. quindi come dicevo due mezze crocette, così, tiriamo il filo, saltiamo un punto, ovvero questo, e andiamo a puntare nell'altro e ne facciamo altri due. Quindi ne saltiamo uno e andiamo a fare altre due mezze crocette dall'altra parte. e adesso torniamo indietro. quindi facciamo le altre mezze crocette dall'altra parte. Ok? Ci vediamo alla fine. A questo punto vedete che ho completato il giro facendo le X dall'altra parte. Adesso partiamo sempre 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 un punto prima e andiamo facendo sei crocette. Quindi andiamo avanti a fare le nostre sei mezze crocette tutte da una parte e poi torniamo indietro dall'altra. Quindi vedete due, tre, quattro. Adesso facciamo due nuovi giri molto semplici. Partiamo sempre in tutti i due giri che andremo a fare un punto prima e nel primo giro facciamo sei crocette e nel secondo ne facciamo sette. Ok? Quindi partiamo sempre un quadratino prima e andiamo avanti a fare il primo giro di sei crocette e il secondo giro di sette. Vedete? Due, tre e così via. Ho dunque fatto questo giro da sei crocette e subito dopo il giro da sette. Adesso partiamo sempre 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 un punto prima e facciamo quattro crocette. Quindi prima sempre tutti da una parte. Una, due, tre e quattro. Saltiamo un quadratino, puntiamo quindi un quadratino più in là, ovvero qua e ne facciamo altre due. Quindi una e una due. E adesso torniamo indietro. E completiamo il nostro giro. Quindi queste due. Saltiamo quello in centro e andiamo a fare le altre quattro. una, due, tre e quattro. E abbiamo fatto un altro giro. Adesso prepariamo il giro successivo. Iniziamo sempre un punto prima e stavolta facciamo due crocette. Quindi facciamo sempre tutto da una parte. Ormai avrete capito. Così. Adesso ne saltiamo un quadretto. Perché questi quadretti che saltiamo andranno a formare un disegno che è una rosa all'interno del cuore. Quindi saltiamo questo quadretto, puntiamo in quello successivo e andiamo a fare altre cinque crocette. Una, due, tre, quattro e cinque. E adesso torniamo indietro. Vedete? così. E qui saltiamo il quadratino, puntiamo in quello nel secondo e andiamo a fare gli ultimi due punti. Voilà. Adesso, di nuovo, iniziamo un punto prima e andiamo a fare sempre due punti. Quindi uno e uno due. saltiamo un quadratino, che quindi è un quadratino prima di quello che abbiamo saltato il giro precedente. Puntiamo, diciamo, in quello dopo, quindi ne saltiamo uno, puntiamo nel successivo e andiamo a fare sei crocette. Quindi una, due, tre, quattro, cinque e sei. Adesso dobbiamo tornare indietro e il giro successivo lo facciamo esattamente uguale a questo, partendo solo sempre senza partire un quadratino primo. Quindi sempre due punti qua sopra, esattamente qua sopra i due che abbiamo appena fatto, saltiamo il quadratino esattamente in corrispondenza di quello che abbiamo appena saltato e facciamo altre sei maglie. Altri sei punti. Fatti questi due giri uguali, partiamo di nuovo un punto prima e facciamo di nuovo due crocette. quindi una e una due. Lasciamo un quadretto, ok? Quindi saltiamo un quadretto, puntiamo in quello successivo e facciamo una nuova crocetta. Per saltare subito dopo altri due quadretti e puntare nel terzo e fare altre quattro crocette. Quindi ne abbiamo fatte due partendo un punto prima, poi abbiamo lasciato un quadretto, ne abbiamo fatta un'altra, abbiamo saltato due quadretti e adesso andiamo a farne quattro. Quindi una l'ho già fatta, facciamo la seconda, terza e quarta. E torniamo indietro, completando il nostro giro. Abbiamo terminato anche questo giro, siamo pronti ad iniziarne un altro. Partiamo nello stesso punto di prima, quindi non uno prima, ma esattamente sopra al primo punto del giro precedente. e andiamo a fare due crocette. Ok? Quindi iniziamo una... ...e una due. Poi saltiamo un quadratino. Quindi saltiamo un quadratino esattamente in corrispondenza di quello che abbiamo saltato nel giro precedente. Puntiamo nel terzo e facciamo un punto e ne facciamo ancora uno. Dopodiché saltiamo due quadratini, quindi uno che corrisponde a uno di quello del giro precedente, più un altro che invece era una crocetta al giro precedente. Adesso diventa un quadratino che saltiamo e facciamo altre tre crocette. Quindi, ricapitolando, ne abbiamo fatte due, abbiamo saltato un quadratino, ne abbiamo fatte due crocette, abbiamo saltato due quadratini e adesso andiamo a fare le ultime tre. Così. E siamo pronti per tornare indietro. Ok? Quindi torniamo pure indietro completando il nostro giro. Due e tre, salto di nuovo i miei due quadratini, faccio le mie altre due crocette, salto il quadratino e faccio le ultime due. E voilà! Anche questo giro è terminato. Adesso torniamo a iniziare un punto prima. Ok? Quindi iniziamo un punto prima e facciamo due crocette. Poi saltiamo un quadretto e andiamo a fare una X in quello subito dopo. Saltiamo di nuovo un quadretto e dopodiché facciamo sette, sette crocette. Quindi due crocette, saltiamo un quadratino, un'altra crocetta, saltiamo un altro quadratino e adesso facciamo le ultime sette crocette che ci servono a terminare anche questo giro. Ok? Due, tre, quattro, cinque, sei e uno sette. Qui dobbiamo saltare il quadratino e facciamo la crocetta. poi saltiamo di nuovo il quadratino e facciamo le ultime due. Ok? Adesso, nel prossimo giro, facciamo una crocetta sopra. Quindi non iniziamo prima ma semplicemente puntiamo sopra e facciamo una crocetta. Poi saltiamo due quadratini e facciamo un'altra crocetta. e adesso facciamo otto X, otto crocette. Quindi, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, quattro, cinque, sei, sette, quattro, cinque, sei, sette. e otto. E adesso torniamo indietro. Di nuovo, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. otto. Saltiamo un quadratino, facciamo la nostra crocetta, saltiamo gli altri due e andiamo a fare la prima crocetta che adesso diventa l'ultima. voilà! Vedete che piano piano il nostro disegno sta incominciando a prendere forma. Adesso iniziamo sempre sopra, quindi non prima ma sempre sempre sopra e andiamo a fare una crocetta. Dopodiché saltiamo un quadratino e ne facciamo altre due. Dopo questi due crocette saltiamo di nuovo un quadratino e facciamo nuovamente due crocette, due punti. una e uno due. Poi saltiamo nuovamente tre quadretti. quindi uno due e tre puntiamo nel quarto e facciamo tre crocette. quindi uno due e tre. e torniamo indietro. quindi di nuovo una, due e tre. salto i tre quadretti e vado a fare gli altri due punti. salto di nuovo un quadretto e vado a fare gli altri due punti. salto il quadretto e vado a fare l'ultimo. così adesso partiamo sempre sopra senza partire prima. quindi partiamo sopra e andiamo a fare cinque punti, quindi cinque crocette. una due tre quattro e una cinque. e adesso e adesso dobbiamo saltare sei quadretti. quindi uno, due, tre, quattro, cinque e sei. puntiamo nel settimo e facciamo tre crocette. una due e tre e torniamo indietro. quindi di nuovo una due due e tre e saltiamo i nostri sei quadretti andiamo all'inizio e facciamo le nostre ultime cinque crocette. tre tre quattro e uno cinque e uno cinque. voilà. anche questo giro è fatto. adesso iniziamo sempre sempre sopra di nuovo senza diciamo crescere e facciamo quattro crocette quindi una due tre tre e uno quattro e saltiamo altri quattro quadretti quindi uno, due, tre e quattro puntiamo nel quinto e ne facciamo due uno e una due saltiamo di nuovo un quadretto e facciamo quattro crocette una due tre e quattro e torniamo indietro proseguiamo sempre iniziamo sopra quindi non iniziamo prima ma continuiamo a lavorare sempre sopra lo stesso punto e e facciamo due crocette ok quindi una e una due dopodiché saltiamo un quadretto e facciamo una crocetta in quello successivo saltiamo altri tre quadretti quindi uno, due e tre puntiamo nel quarto e facciamo una crocetta ne saltiamo altri due e facciamo di nuovo una crocetta capisco che adesso diventa un po' più complicato proprio per questi quadratini da saltare ma la lavorazione prosegue sempre sempre nello stesso modo quindi dopo questa crocetta saltiamo ancora un quadratino puntiamo in quello in quello subito dopo nell'altro e facciamo quattro punti uno due tre e quattro adesso adesso iniziamo un quadratino dopo quindi saltiamo un quadratino del giro precedente e iniziamo un quadratino dopo ok e facciamo quattro crocette quindi una due tre tre e quattro dopodichè saltiamo un quadratino e facciamo di nuovo una crocetta quindi saltiamo un quadratino e facciamo una crocetta in questo modo qui in questo modo qui e saltiamo nuovamente quattro quadretti quindi contiamo uno due tre e quattro mi inserisco nel quinto e vado a lavorare cinque crocette cinque punti quindi uno due tre quattro e cinque e torno indietro uno due due tre quattro e cinque saltiamo i quadratini andiamo a fare questo saltiamo di nuovo i quadratini e andiamo a fare i primi quattro punti tre due tre e quattro adesso iniziamo esattamente sopra al punto del giro precedente e andiamo a fare tre crocette quindi uno due e una tre saltiamo poi due quadretti quindi uno e uno due puntiamo nel terzo e facciamo una crocetta saltiamo nuovamente due quadretti e nel terzo facciamo un'altra crocetta dopodichè saltiamo un ultimo quadratino e andiamo a lavorare le nostre cinque le nostre ultime cinque 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 crocette quindi una due tre quattro e uno cinque e torniamo indietro qui uno due tre quattro cinque saltiamo un punto facciamo questo saltiamo l'altro e saltiamo di nuovo i due quadretti e finiamo all'inizio a fare gli ultimi tre punti uno due e tre e anche questo giro è finito adesso iniziamo di nuovo una maglia un punto prima quindi non sopra ma ci spostiamo un po' più verso destra e facciamo due crocette una e una due saltiamo tre quadretti quindi uno due e tre puntiamo nel quarto e facciamo una crocetta sentiamo due sentiamo due quadretti e eccoci qua abbiamo quasi terminato la prima metà del nostro cuore adesso iniziamo esattamente sopra al primo punto del giro precedente e partiamo facendo quattro crocette una due tre e quattro dopo di che saltiamo due quadratini e andiamo a fare di nuovo due crocette quindi salto uno salto due punto nel terzo e facciamo altre quattro crocette e facciamo altre quattro crocette due tre e quattro adesso saltiamo un quadratino e facciamo tre crocette quindi una due e tre voilà io ho finito il filo ne approfitto per cambiare gugliata e intanto completiamo il giro tornando all'indietro completando le nostre crocette e ci vediamo all'inizio del prossimo ho terminato anche questo giro iniziamo dunque il prossimo dove saltiamo il primo punto quindi non iniziamo sopra a quello del giro precedente ma un punto dopo e proseguiamo facendo dodici punti quindi uno due tre quattro cinque sei sei sette otto nove dieci undici e dodici e torniamo indietro uno uno due tre quattro cinque sei sette otto cinque sei tre dieci undici e dodici voilà nuovo giro partiamo nuovamente un punto dopo ok quindi non sullo stesso primo punto ma ne saltiamo uno e iniziamo un punto dopo e facciamo quattro crocette quindi una due tre e quattro saltiamo un quadratino e facciamo altre cinque crocette quindi una due tre e quattro e cinque e torniamo indietro quindi uno uno due tre quattro e cinque e saltiamo il quadratino e facciamo gli ultimi quattro uno due due tre e quattro e siamo arrivati all'ultimo giro della prima parte saltiamo tre quadretti quindi uno due tre iniziamo nel quarto esattamente qua e facciamo cinque punti quindi uno due due tre quattro e cinque e torniamo indietro e voilà abbiamo finito la prima parte del nostro cuore vedete che qua si è formata una rosa con il nostro gambo e le foglioline esattamente nella parte che noi abbiamo lasciato vuota io adesso la lascerò così proprio perché mi piace che si veda la lavorazione che non è una tela ma è fatta all'uncinetto però nel caso voi non piaceste potrete riempire questi quadratini che abbiamo lasciati bianchi con un altro colore del filo adesso vi faccio vedere come continuare a fare l'altra parte per concludere il cuore intanto tagliate tagliate il filo perché ripartiamo da un'altra parte tagliate allora la seconda parte del nostro cuore è un po' particolare poiché ha solo il contorno e dentro è formata da tante piccole righe però è un motivo che a me piaceva moltissimo quindi spero piace anche a voi e adesso vi faccio vedere come proseguire allora partiamo da questo punto qua che è quello più sporgente verso destra che avete nella parte superiore quindi partiamo una riga sopra e ci spostiamo in diagonale quindi in questo senso ok quindi puntiamo il quadratino non sopra ma quello a fianco esattamente che continui la diagonale qua proprio qua sopra e facciamo una crocetta esattamente qua vedete che proseguiamo in diagonale e adesso sempre in diagonale spostandoci di una riga sopra facciamo un'altra crocetta però mi raccomando non di fianco ma spostandosi nella riga superiore così vedete che stiamo salendo adesso di nuovo ci spostiamo nella riga superiore sempre in diagonale però invece di una crocetta ne facciamo due una di fianco all'altra così adesso sempre spostandoci in diagonale di una riga sopra facciamo cinque crocette che vanno sono le pari di queste ultime cinque che abbiamo fatto qua queste sarebbero le sue corrispondenti dall'altra parte ok quindi facciamo cinque crocette una due tre quattro e cinque e torniamo indietro fatte anche queste cinque crocette puntiamo nella riga sotto però un punto dopo quindi non sotto all'ultimo ma ci spostiamo di uno e facciamo tre crocette spostandoci verso destra quindi uno due e tre e torniamo indietro quindi uno due e tre adesso adesso sempre spostandoci in diagonale ma una crocetta dopo quella che abbiamo appena fatto ne facciamo un'altra quindi continuiamo a spostarci verso destra proprio perché il nostro cuore deve deve allargarsi stiamo incominciando a scendere però allargandoci ok vedete abbiamo fatto le cinque poi le tre e poi l'una sempre tutte spostate adesso ci spostiamo ulteriormente sempre di uno e facciamo due crocette una sotto l'altra così e l'altra immediatamente sotto ripetiamo la stessa cosa però stavolta spostandoci di nuovo un quadretto più a destra quindi di nuovo due crocette una sotto l'altra una e uno due adesso ci spostiamo nuovamente di un quadretto verso destra ovvero qua e andiamo a fare sei crocette una sotto l'altra una sotto l'altra ok quindi incominciamo una due tre 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 quattro cinque quattro cinque e uno e uno vedete abbiamo fatto sei punti uno sotto l'altro adesso ci spostiamo però di un quadretto più a sinistra cioè rientriamo per chiudere il nostro cuore e facciamo due crocette una sotto l'altra poi ci spostiamo nuovamente di un punto più a sinistra e ne facciamo di nuovo due crocette una sotto l'altra così così in questo modo e adesso ci spostiamo di un quadretto più a sinistra per giro fino alla fine del cuore quindi fino ad arrivare qui in questo punto che abbiamo già che è la nostra punta ok quindi ci spostiamo sempre di un quadretto più a sinistra e finiamo il contorno del nostro cuore ok ogni quadretto ci spostiamo in diagonale però a sinistra rientrando di uno vedete adesso mi sposto qua così voilà e arriviamo fino al fondo abbiamo abbiamo dunque terminato il contorno del nostro cuore comincia a prendere forma ed è abbastanza carino adesso passiamo a riempire questa parte che come vi dicevo prima è formata da tanti piccole righe quindi partiamo qui dal fondo esattamente qui e andiamo a fare non più crocette ma punto scritto ok quindi tutte delle linee che congiungono una crocetta all'altra sempre in diagonale quindi punto sempre diciamo nell'estremità della crocetta e mi congiungo a questa linea e proseguo sempre in diagonale formando tante piccole linee parallele ok e proseguo in questo modo formando tante piccole righe quindi vado diciamo che vado a riempire come facessi solo mezza crocetta però non vado poi a fare l'altra parte ok proseguo diciamo così in diagonale collegando tutte le mie crocette e seguendo appunto questa prima linea proseguiamo dunque così fino a quando arriviamo a questo punto ok proseguiamo così in linea in esattamente in una linea parallela fino a quando ci troviamo qui che non possiamo più proseguire vedete così ho finito il primo giro di righe vedete sono arrivata fino qua dove poi incontro la crocetta e non posso più continuare adesso ci spostiamo in questa crocetta qua la prima diciamo delle sei che proseguono in linea in linea retta quindi inizio qui esattamente nella diagonale e proseguo all'ingiù in modo che vado poi a congiungermi qui ok iniziamo 1 2 3 4 ok e proseguiamo in questo modo fino alla fine e diciamo che per ogni diagonale delle nostre crocette tiriamo una linea dritta che va dall'altra parte fino a riempirlo completamente quindi partiamo esattamente qui cioè vedete esattamente qui poi partiremo di nuovo qui ok poi partiamo qui poi qui e così via tirando delle linee che vanno in diagonale da una parte all'altra ora ne faccio un po' e poi vi faccio vedere così forse riuscite a capire meglio ho fatto qualche altro giro nella parte superiore per farvi vedere meglio perché qui essendoci questo giro di crocette rimaneva confuso e non riuscivo a spiegarmi quindi vedete che diciamo che salto un contiamo le crocette così in verticale ne salto una parto nell'angolo in basso di quella successiva quindi della seconda e vado a tirare una linea retta fino a quando non incrocio la crocetta dall'altra parte vedete quindi qui poi ho saltato una sono partita al fondo della seconda e sono andata in linea retta qua di nuovo ne ho saltata una sono partita all'angolo della seconda e sono venuta giù in linea retta qui di nuovo ne saltiamo una e partiamo a venire giù in linea retta quindi partiamo sempre diciamo dall'alto saltandone una e partendo nell'angolo in basso della seconda e veniamo giù in linea retta ok quindi io adesso sono qui salto questa crocetta e parto nell'angolo in basso di questa e verrò giù qui così dopo di che salto questa e parto qui nell'angolo in basso della seconda e tiro giù in linea retta ok ci vediamo alla fine ho terminato il mio ricamo infatti vedete che ho finito di fare le mie linee io ho deciso che lo lascio così perché lo schema originario che ho preso per copiare questo ricamo aveva anche delle linee dall'altra parte ma ho provato a realizzarle e le ho disfatte perché non mi piacevano quindi ho deciso che appunto lo lascio così vi allegherò sotto nei commenti la foto appunto di questo schema se mi faccio da seguire e voi se volete fare le righe dall'altra parte provateci quindi io ho deciso che lo lascio così adesso non ci resta altro che fare il bordo laterale tutto attorno che serve per finire questo nostro coppipuffo quindi non ci resta altro che mettere il filo sull'uncinetto e puntare in un angolo del nostro lavoro e andare a realizzare tante maglie basse però questa volta invece di lavorare solo su un lato lavoreremo su tutti e quattro quindi gireremo tutto attorno fino ad aver raggiunto l'altezza che serve appunto per ricoprire il nostro puffo ok quindi partiamo da qui e iniziamo a realizzare appunto le nostre maglie basse e avviamo la nostra lavorazione tutto attorno così ok avviamo tante maglie basse quanti sono appunto i nostri giri e mi raccomando lavoriamo su tutti e quattro i lati ho fatto un primo giro di maglie basse lungo tutto questo lato e adesso giro e proseguo nel lato superiore vedete? non interrompo la lavorazione torno indietro ma giro su tutti e quattro i lati e adesso vado avanti a lavorare su questo lato sempre una maglia bassa per ogni maglia sottostante e proseguo così per i restanti due giri voglio farvi vedere che sono andata a lavorare tutto attorno diciamo al rettangolo che avevo inizialmente e fino ad ora ho realizzato otto giri di maglie basse vedete che corrono tutto attorno alla mia base iniziale a me ne serviranno ancora parecchi giri perché la parte che devo ricoprire è molto alta voi vedete in base appunto al puffo che dovete ricoprire quanto ve ne occorre